Molto piacere partecipare e sentirmi uno di loro. Si lavora tutti i giorni per migliorare la tecnica, quello è importante, ma alla base c'è migliorare il feeling. Ogni giorno è una costruzione di un tassello col vostro cavallo. Secondo me abbiamo bisogno di una buona equitazione, di un'equitazione che sia più che altro di qualità, non troppo di quantità. È integrante del nostro lavoro avere sempre il campo in ordine e nel rispetto dei nostri cavalli. A questa velocità ci vorrebbe un giorno e mezzo, non un giorno e mezzo. Ci costruiremo insieme un percorso molto lineare. La cosa di togliere i telefoni, a parte che è un programma e quindi non ce li dobbiamo avere, però anche per noi, almeno per me, è meglio perché te la vivi a pieno. Grazie!